No vabbè Giacomino, con questa chiudiamo i giochi, guarda qua, è già la quarta che mi aggiunge oggi, guarda, è una parata di figa Smilzo scusami, Emerson Shaleg Dietrich vive a Torino, ma secondo te, ma a parte che non il tocco di figa così ti pare che aggiunge te, povero babbo di micchia Questo è un fake, Smilzo, ma scusa, ma ancora non hai imparato a usare Facebook a 30 anni, dai Giacomino, può essere anche vero, non è che... Ma no Smilzo, ma scusa, otto amici tra cui Pol Dybala, Suarez e Messi, ma secondo te... No Giacomino, non può essere... Dietro questa gente qua ci sarà qualche bulgaro pericoloso che poi ti dà appuntamento per strada e ti massacra di botte, ti ruba il portafoglio e ti dico di più, c'ha ragione, capito, c'ha ragione C'è quindi la figa come motore immobile per la truffa? Certo, la figa muove il mondo comunque, capito? Ma ci sta, io non accetto, a nulla richiede Bravo, tutto io ti devo insegnare Sorelle, scusate, sorelle, anche oggi io ti ho fallito, scusate, e questo pure era brutto, ma proprio brutto brutto, che più brutto? Boh, però domani tranquillo, proviamo con un altro italiano e vediamo che magari ci sistemiamo Quindi praticamente se non ho capito male il delta sarebbe B al quadrato meno 4C No Passate, è due volte la vita Jack, ma che cazzo stai facendo? No, Smilzo, ti ricordi le ragazze fake dell'altro giorno, quelle su Facebook? Non sono fake, ho scoperto che i fake non esistono, ci sono persone in carne ed ossa, ti dico di più Sono dei geni della matematica e mi stanno aiutando con l'analisi 1, che c'ho qualche problemino, sai? Ma aiutando cosa, Giacomino? Quello ho provato 4 volte, ma smenzale, dai! Ho capito, Smilzo, ma se tu non dai fiducia all'est, l'est non dà fiducia a te, hai capito? Scusa, fammi capire, ma tutta la storia del bulgaro, le cose, i fake Ma il bulgaro esiste veramente? Cioè il bulgaro è una persona in carne ed ossa e il fratello che cercava di farne arrivare qua in Italia Lì, guarda come servizievole, lavava anche i piatti Smilzo, è tu sfiducioso, tu razzista, perché tu coglioni? Sì, guarda come servizievole, lavava anche i piatti